Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Come avrete visto dal titolo, oggi finalmente sono troppo contenta. Una recensione su queste nuove palette di Hourglass. Io le ho prese tutte e tre, non vedevo l'ora. Purtroppo questa volta sono in ritardo, non per colpa mia, ma perché io ho le ordinate il giorno di uscita sul sito ufficiale di Hourglass, che era il 7 settembre. Sono arrivate il 9 ottobre, più di un mese, quasi pat. Mi era arrivata una mail subito dopo aver fatto l'ordine che ci sarebbero stati dei ritardi dovuti all'alto numero di ordini. Sul sito di Hourglass si specifica che le spedizioni internazionali ci mettono più o meno 7-10 giorni. Ho detto, vabbè, ci metterà due settimane, poco più. Avrò tutto il tempo di fare questa recensione prima che escano in Italia queste palette. Perché volevo farla appunto prima che uscissero su Sephora, su Cal Beauty, motivo per cui le ho ordinati sul sito di Hourglass. Però prima di andare avanti con questa cosa, volevo fare una precisazione, anche visto l'argomento di questo video. Penso che non sia passato bene il messaggio su quale vuole essere il filone che segue il mio canale. Io ho aperto questo canale perché mi piace il make-up, soprattutto make-up high-end e luxury, purtroppo per le mie tasche. Non tanto però per farvi vedere quante cose compro o quante grande è la mia collezione, che neanche mi piace chiamarla in questo modo. Ma l'ho aperto per fare recensioni. Chi sono io per fare recensioni? Nessuno, non sono una make-up artist, non ho migliaia di follower, non esageriamo, migliaia di follower. Perché ho iniziato dal nulla, ho iniziato dal nulla con i social in generale. Tra l'altro su Instagram, scusate, sono terrificante, ma problemi anche per il mio telefono che fa delle foto che sono scene. Quindi non mi sento tanto di pubblicare su Instagram. Vabbè, poi non sono una persona molto social. Quindi io ho iniziato totalmente da zero. È logico che all'inizio, quando metti video su YouTube e hai pochissimi follower, posti veramente molto di rado, molto di rado intendo... Io cerco almeno una volta a settimana, ma mi rendo conto che è poco. Però, soprattutto al momento, non riesco a far di più. Anzi, vi chiedo scusa, un parentesi. Se sto rispondendo poco ai commenti o comunque ci metto un attimo, io voglio sempre rispondere. Mi prendo un momento alla sera dove sono tranquilla, dove posso leggermeli bene, rispondere in un modo non troppo frettoloso. Purtroppo io, in queste due settimane, dovuto all'alto numero di impegni, mi metto col computer dopo cena sul divano e puntualmente mi addormento. Mi addormento, ma vuol dire che mi addormento mentre scrivo. Oppure l'altra sera mi stavo limando le unghie, mi sono addormentata seduta, mentre mi limavo le unghie, mi sono svegliata all'una e mezza con la lima in mano. Ecco, questo solo per dirvi in che condizioni sono. Però, chiusa parentesi, non c'entra niente. Naturalmente, vi dicevo, io sono un canale piccolo, pubblico poco, le visualizzazioni naturalmente sono poche, perché quando si pubblica poco e sei un canale piccolo, i video vengono spinti poco dall'algoritmo di YouTube. E quindi è normale che io abbia poche visualizzazioni. Dopodiché, anche se sono un canale piccolo, anche se non sono nessuno, voglio fare recensioni su prodotti beauty, beauty high-end, luxury. Naturalmente, non posso fare le recensioni di tutti i prodotti luxury che escono. Anche se, quando io ho aperto il canale, ho pensato ciò, non è possibile. Uno, per una questione di tempi. Escono troppe cose, io ho troppo poco tempo. Due, per una questione di budget. Naturalmente, io non sono milionaria, non guadagno con questo canale, e quindi devo un po' limitare a ciò che mi interessa veramente i miei acquisti. Dopodiché, se ci fosse qualcosa che vi interessasse veramente, chiedetemi, cercherò di farlo nelle mie possibilità. Vorrei fare a tal proposito, per evitare che questo pippone duri un'ora e mezza, un video dove magari mi trucco con voi, entro bene in questi argomenti. Va bene, basta, chiuso, torniamo alle palette di Hourglass. Prima cosa che vi dico su queste palette, se aveste mai intenzione di acquistarne una, mi raccomando, non compratele su Sephora. Io non so perché, su Sephora costano molto di più rispetto al sito di Hourglass, oppure rispetto a Cal Beauty, dove il prezzo iniziale, senza sconti, senza niente, è già di molto inferiore. È vero che il loro prezzo è aumentato anche rispetto all'anno scorso? Sì, dopodiché, io la mia prima palette di Hourglass l'ho presa nel lontano 2020. Questa è la... no, la Sculpture. All'epoca costava esattamente 80€. Ormai su Cal Beauty gli sconti ci sono abbastanza frequentemente. Invece, su Hourglass, io già dal primo giorno di uscita l'ho presa scontata di poco, del 10%, mi pare, non di più, perché se ci si registra viene dato uno sconto da utilizzare quando si vuole, del 10%. Sul sito ufficiale di Hourglass, che è il sito americano, non c'è dogana, o meglio, i costi doganali vengono applicati già al momento dell'acquisto. Quindi, quando arrivano in Italia, queste palette o qualsiasi cosa si ordina da Hourglass, non c'è null'altro da pagare in più. Secondo me, funziona un po' come il sito di Pat, dove vi dice anche lì la stessa cosa, poi in realtà i prezzi non aumentano quando si fa l'acquisto. Perché queste palette costano, in America, 90$. Quando ho fatto io l'acquisto, il loro prezzo era di 96€, che con il cambio euro-dollaro adesso ci sta. Quindi non ho pagato di più e in più sono riuscita a scontarle del 10%. Io in realtà quest'ordine l'ho fatto in due tranche, due tranche a distanza di due giorni. All'inizio, quando ho visto le prime immagini dell'uscita, io volevo prendere solo due palette, la Jellyfish palette e la Snake palette, la più scura, perché avevano più cialde con colorazioni nuove. Poi però, pensando allo scopo di questo video, ho deciso di prendere anche la terza. Tanto io, vi ho detto, possiedo solamente questa qua, che è la Sculpture, e alla fine, come colori uguali, se togliamo le finishing powder da torno, ho solo un blush di doppione presente in queste palette. Avendo poi ordinato su Hourglass, ho potuto approfittare del fatto di costumizzare le palette. Infatti, se notate, qua non vedete la Snake, ma al posto c'è questa, o meglio, non è proprio questa, perché ho fatto un casino. Pensando di prenderne solo due, quella contenuta nella Snake palette, cioè la colorazione più scura, io l'ho messa in questa palette qua, la Leopard, che appunto non è la Leopard all'interno, ma la Snake palette. Su Hourglass, per non confondere troppo, infatti le varie combinazioni di colori sono chiamate palette 1, 2, 3. Questa è la Leopard e contiene appunto all'interno, nel mio caso, la Snake palette, cioè la palette numero 3. Quella con i colori della Jellyfish è la numero 1, la Leopard, la palette numero 2. Quindi, se volete costumizzare le vostre palette, solo il sito di Hourglass fa questa cosa. Per me non era necessaria, anzi, tornassi indietro, vi dico che acquisterei queste palette su Cal Beauty. Uno mi arriverebbero molto molto prima, le avrei potute scontare di più, però col senno di poi siamo tutti bravi. Andata così. Naturalmente anche per questo video, che non credo sarà molto breve, anche perché l'introduzione con il pippone che ho fatto di mezzo è già stata abbastanza lunga, vi metterò i capitoli anche in questo caso. Prima di procedere all'applicazione di una palette, ed oggi ne indosserò solo una, perché poi devo uscire, domani proveremo invece le altre due. Vi dico che sul viso ho applicato il fondotinta di Hourglass. Questo è il Soft Glow Foundation, che mi sta piacendo tantissimo. Passiamo invece adesso alle vere e proprie palette, che arrivano con questo packaging secondario, che riprende in tutto e per tutto il packaging primario. Dall'anno scorso Hourglass sta collaborando per queste collezioni natalizie con un artista inglese che si chiama Kate Scott, di cui sono andata anche a ricercare dei lavori su Google. Si occupa principalmente di soggetti naturali, botanici, fa delle cose molto belle, un po' stilizzate in questo stile. Queste palette contengono 1,4 grammi per ogni cialda, sono 6 cialde. Non è tanto, è vero, ma se avete presente quanto costi una cialda singola di Hourglass, capirete che è conveniente se si vogliono provare le polveri di Hourglass, perché se si prende almeno la palette giusta si riescono a provare le finishing powder, il bronzer, i blush e l'illuminante. Tutte le polveri presenti in Hourglass, che sono delle polveri stupende. Sono polveri cotte con una bellissima satinatura. Satinatura che rimane però sul viso estremamente naturale. Tra l'altro queste polveri si riescono a prelevare bene e dosare bene, perché non se ne preleva troppo, non sono troppo polverose, ma non sono neanche così pressate nella cialda da non riuscire a prelevare una mazza. Il packaging primario di queste nuove palette rispetto a questi qua è molto più pesante, sembra in metallo, questo è in plastica. Ha naturalmente poi uno bello specchio, che però non sta dritto. Cioè cade così, non cade del tutto, ma un po' cade. Iniziamo quindi dalla prima palette. Questa sul sito di Hourglass, se si vuole customizzare, è indicata come palette numero uno, se no jellyfish palette, perché c'è la medusa. Ed è composta da tre cialde già esistenti nella gamma di Hourglass e tre cialde nuove. Le tre cialde già esistenti sono queste due finishing powder e questo blush. Le altre sono colorazioni nuove, ed è indicata per fototipi fair e chiari. Di questa palette che pensavo di prendere fin da subito, mi hanno colpito il bronzer e l'illuminante, perché nelle foto, soprattutto il bronzer, sembra molto più freddo di quello che in realtà è. Non è caldo come gli altri bronzer nelle palette precedenti, ma non è neanche così freddo. Le foto ingannano. Se posso darvi un consiglio, guardate più video possibili con persone che abbiano un tono di pelle diverso, perché anche i colori appariranno diversi. Per prima cosa vado ad applicare questa polvere qua, che è l'Ethereal Light. Scusate, leggo perché non me li ricordo assolutamente tutti i nomi. Comunque è una polvere finishing powder, traslucida, più fredda rispetto a questa qua, che è più giallina. Non so quanto ho riuscito a vedere dal video, spero che si noti la differenza. La vado ad applicare nel contorno occhi, che non ho precedentemente settato. Indosso infatti il correttore di Huda Beauty, che devo dire, in questi giorni così frenetici, sto indossando senza settarlo e si comporta benissimo. Questa polvere va ad illuminare il punto in cui si applica. Hanno un colore molto, molto sheer. Sono delle polveri traslucide con un leggero velo di colore. Naturalmente io non uso questo tipo di polveri per settare la mia base, che oggi non ho settato. Quindi se vedete lucidarsi è per quello. Non sono in grado di tenere la lucidità queste polveri. Sono delle finishing powder e io è così che amo utilizzarle. A me piacciono tantissimo, le utilizzo molto volentieri. Dopodiché una pelle matura, più secca, potrebbe anche riuscire ad utilizzarle come setting powder. Io no. E questo invece è lo swatch del bronzer. Naturalmente poi ve li metterò tutti a confronto. Bronzer, blush, l'inter palette. Di quello ce ne occupiamo a fine video. Però volevo farvi vedere, non so se in camera rende, quanto fosse più caldo sbocciato rispetto a quanto non sembri in cialda. Lo vado a prelevare con questo pennello di Refre, il numero 37. Uso questo pennello perché se c'è un difetto che hanno queste palette, sono le cialde estremamente piccole, dove io non riesco a utilizzare i pennelli che uso di solito. Cioè o meglio, potrei anche farlo, ma rischio di prelevare tutte le cialde intorno. Vado comunque a prelevare il bronzer. Un minimo spolvera in cialda, ma non è niente di eclatante. È una polvere super super sottile. Stratificabile. Che dà un finish naturale al viso. Non è esattamente un matte. Vedete come si sfuma bene? L'ho prelevato solo una volta. Non è eccessivamente pigmentato. Adesso lo stratifico una seconda volta. Si riesce a sfumare bene. Dà questo finish naturale al viso. Non è completamente opaco, ma non contiene neanche particelle luminose da renderlo metallizzato. Anche se dallo swatch sembra un po' più caldino di quanto poi appaia in cialda, sul viso non è assolutamente aranciato. Non è una polvere da contour, ok, ma ha un colore che a me piace e riesco a portare bene. Non è eccessivamente caldo. Sono polveri comunque modulabili, costruibili, che non danno subito quel payoff immediato. Naturalmente anche qua dipende con che pennello lo si preleva. La durata vi dico è buona. Io appunto le polveri di Hourglass le conosco già perché ho già una palette e mi sono sempre trovata bene come durata. Durata nella media. 8-9 ore. Però una giornata di lavoro se la fanno. Tenete conto che io sto mettendo il tutto su una base non fissata. E questo è l'effetto del bronzer. Vedete che non è aranciato. È sì caldo, ma non caldissimo. Adesso invece andiamo a mettere questo blush qua che è Rose Fusion ed è una nuova tonalità descritto come un malva a freddo. Lo vado a prendere sempre con lo stesso pennello che ho precedentemente pulito e lo applico da questa parte. Assolutamente stratificabile, anche lui è modulabile. Non fa per niente macchia. Sul viso è meno freddo di quello che sembra in cialda poi, secondo me. Vedete che non è completamente opaco. Però non ha shimmer all'interno, assolutamente. È un finish naturale satinato. Da questa parte qua vado invece ad applicare questo colore qua che è Diffused Heat che è un colore invece già presente in gamma come singolo mi pare. Questo invece è descritto come un colore poppy vibrante. In realtà ha sbocciato, poi ve lo faccio vedere bene. È un rosa più chiaro rispetto a Rose Fusion ma anche più caldo. Anche lui modulabile, costruibile con questo finish naturale satinato. E questo è il risultato. Un po' più chiaro di questo ma sul viso forse non così tanto diversi. Questo è Diffused Heat e questo è Rose Fusion. Poi andiamo a mettere l'illuminante che si chiama Opal Strobe Light e nella formulazione Metallic Strobe Lightening Powder. So che ci sono diverse formule di illuminanti in Hourglass purtroppo io ne conosco solo una quindi non vi so dire come siano le altre. Comunque dovrebbe essere un colore rose gold chiaro. E lo andiamo a sfumare bene. A me la striscia di solito non piace però dopo magari lo metto più in quel modo lì così vedete anche quell'effetto lì. Così l'effetto è molto carino e riesco a tenerlo abbastanza naturale anche se si vede. Da questa parte lo metto invece con il refr numero 20 così lo metto in un punto un po' più preciso e limitato. Questa polvere qua rispetto alle altre spolvera di più ed è la stessa cosa che notavo nell'altra palette che avevo prima, la Sculpture, no, che ho anche adesso. Ecco, così è messo in modo più preciso e l'effetto è decisamente più luminoso. Preferisco messo così. Ho incipriato il centro del viso con una setting powder in polvere libera. Adesso andiamo però ad utilizzare la finishing powder questa qua più giallina rispetto a lei. Lei è la Diffused Light. La vado a prelevare con questo pennello di refr. è il numero 19. Di solito io non uso questo pennello. La passo prima sui bordi dove ho applicato blush e bronzer ma il pennello che uso io di solito che è quello di BH, piatto, non ci sta nel pan. Di solito lo schiaccio e mi aggiusto. Oggi volevo fare le cose un po' più simil, professionali. Ecco, prendete sempre con le pinze queste parole. Comunque la finishing powder serve per andare a rendere i bordi meno taglienti sfumarli per bene nel resto dell'incarnato. Magari anche se si esagera un po' con il blush passandoci sopra senza aggiungere così tanta finishing powder si può ridurre l'effetto Heidi. e comunque fondere tutti i prodotti che si sono usati assieme. Quindi questo è il risultato con la Jellyfish Palette. Palette che mi piace, mi piace parecchio. Trovo che vada benissimo per il mio tono di pelle. Qualche difettuccio ce l'ha. Innanzitutto, queste due polveri qua sono molto molto simili tra loro, praticamente identiche. Questa è più bianca, questa è più giallina. Il tono è praticamente lo stesso. Ecco, forse uno spazio in meno dedicato a queste polveri sarebbe stato meglio. Forse avrei preferito addirittura ci fosse la Dim Light. Ecco, io questa la uso tantissimo come finishing powder proprio per andare ad attenuare i bordi, amalgamare bene tutti i prodotti. Preferisco decisamente lei. Ah, queste qua che sono tanto tanto chiare. Altra cosa, questi due blush non sono poi così diversi. Sono tutte e due sul rosino. Uno un po' più chiaro, uno un po' più scuro. Se ci fosse stato un altro colore di blush proprio diverso, più nude, non so, avrebbe secondo me avuto più senso. Questo bronzer mi piace. Finalmente in una palette è un bronzer che mi piace parecchio, perché quello che ho nell'altra palette, sì è vero, la sto usando tutta tantissimo, però ecco, il bronzer lì per me è un po' troppo caldo. Questo lo è già di meno, anche se non è comunque una polvere da contour. Illuminante bellissimo. Nel colore che piace a me. Ed eccoci qua, secondo giorno. Oggi iniziamo con la Leopard Palette. Questa qua, se si vuole customizzare sul sito di Hourglass, è identificata come palette numero due. E infatti la mia non è presente nel case Leopard, ma nel case All, che è presente solo sul sito di Hourglass, solo come packaging. Questa volta non iniziamo dalla finishing powder su contornocchi, che non ho ancora settato, perché questa è la Dim Light, che è un beige naturale, un po' scuro per il mio contorno occhi. Quindi ve la faccio vedere alla fine. Prima mettiamo il resto, faccio le foto per la copertina, e poi mettiamo anche questa. Iniziamo quindi dal bronzer. Questo si chiama Lustrous Bronze Light, ed è descritto come un bronzo caldo. Questo qua è il bronzer, ed è lo stesso presente nella palette dell'anno scorso, nella Elephant Palette. È infatti più caldo degli altri bronzer presenti in questa collezione, e secondo me è anche un pelino più luminoso degli altri bronzer. Lo vado a prelevare sempre con il rough numero 37. È decisamente più caldo dell'altro bronzer. Sul viso la luminosità che vedo in Child, e nello swatch non la percepisco, però vedete che è più caldo. Anche lui è modulabile. Questa palette è indicata per un tono di pelle light to medium. E io riesco, vi dico, a sfruttarla bene. L'ho usata questa forse di più delle altre tre giorni. Naturalmente è una pelle chiara come la mia. Se non vuole un effetto così intenso, come sto facendo io, che lo sto stratificando, basta metterne meno, oppure prendere un pennello che prelevi meno prodotto. Anche oggi non ho applicato cipri al centro del viso, neanche ai lati, e sto indossando lo stesso fondotinta, la stessa base di ieri, quindi il fondotinta di Hourglass. Anche questo bronzer non è completamente opaco, forse dà un po' più di luminosità, almeno vedendomi in camera mi vedo leggermente più luminosa rispetto a ieri, soprattutto da questa parte. Non so perché, ma non così tanto come sembra vedendo il bronzer dalla cialda oppure swatchato. Anche se caldo, vedete che per me non è un colore importabile, non vira assolutamente all'arancione. Ho pulito il pennello su un pannetto in microfibra, adesso andiamo con questo blush qua, che è Mood Exposure. È il blush, credo, più famoso di Hourglass, presente in collezione permanente, anche come singolo, e presente in alcune palette precedentemente uscite. Ed è scritto come un soft plum, quindi un prugna chiaro. Sembra meno chiaro in cialda rispetto a poi cos'è nella realtà. È il colore più freddo di Hourglass che possieda, e mi piace molto. Essendo così chiaro, bisogna stratificarlo, perché si veda anche sul mio tipo di pelle, soprattutto per farvelo vedere in camera voi. Di solito non lo stratifico così tanto, ma almeno due volte sì. Adesso vado a prendere questo blush qua, che si chiama Irridden Stent, scusate, Rose. È un rosa caldo, ma è nella formula Ambient Strobe Lightening Powder. Quando c'è la parola strobe, vuol dire che è una polvere più luminosa rispetto alle altre. E la vado ad applicare sempre con il refr numero 37, che ho precedentemente pulito, sulla parte alta dello zigomo, proprio perché è una polvere più luminosa. Quindi tende a segnare un pochettino di più quello che c'è da segnare. E vi consiglio perciò di tenervi lontani dalla zona pori, se ne avete. Infatti io preferisco applicare questo tipo di polveri, che mi piacciono, perché danno una bella luminosità, però un po' tenendomi un po' più alta. Ed è decisamente un rosa caldo più intenso di Mood Exposure. E adesso andiamo con l'ultimo blush, che è questo qua, che si chiama Ethereal Flush. Ed è l'unica cialda nuova di questa palette. Le altre sono tutti best seller, motivo per cui questa palette è stata un po' scartata da molte persone. In realtà, se non si possiedono altre polveri, altre palette di Hourglass, alla fine sono tutte cialde nuove. Questo è nella solita formula tipica di Hourglass. Vedete quanto ne ha prelevato? Anche lui, decisamente, li ammettiamo qua sulla pomade. Oh mamma, un po' troppo. Scarico il pennello sulla mano e poi andiamo a sfumare. Lui è decisamente più intenso, soprattutto rispetto a Mood Exposure. Descritto come pesca soft, non lo trovo così soft. Comunque appunto è nella formula classica, un ambient lightening powder, non è nella formula strobe. Però è molto molto carino. Anche se, sapete, i pescati non sono il colore di blush che preferisco, ma come vi ho detto nello scorso video, devo dire che non mi stanno male. E questo è l'effetto dei tre blush applicati. Naturalmente Iterial Flush è meno luminoso di Ridden Centro Rose. Questi due rimangono più intensi come colorazione rispetto a Mood Exposure. Passiamo ora all'illuminante, questo qua, che si chiama Celestial Strobe Light ed è un oro chiaro, un gold chiaro. Lo vado a mettere prima con il pennello di Charlotte in modo diffuso. Anche se è dorato, a me questo illuminante piace tantissimo. E non me l'aspettavo. Questa palette è stata una scoperta per me. Invece da questa parte lo vado ad applicare con il refro numero 20 per averlo in un punto più preciso, che è una cosa che io, vi ripeto, non faccio così mai. Questo è l'effetto. Su di me non è per niente scuro. Come ultima polvere il viso utilizziamo questa qua, che è la Dim Light. Questa è la polvere di Hourglass più famosa in assoluto, penso. È una finishing powder. Per me è ottima da usare sul viso. Ripeto, non sul contorno occhi, perché è troppo scura, ed è un beige naturale. La vado appunto ad applicare come finishing powder con il pennello di refro numero 19. Naturalmente non sono polveri matte, ma danno comunque un effetto soft focus blerrante. A me piacciono tantissimo. Usate solamente però come finishing. Da questa parte dove ho applicato l'illuminante con il pennello fan brush, su un punto ben preciso, sono andata anche un po' più in giù, verso il naso, dove ho parecchi pori, e devo dire che enfatizza questa zona, però è un illuminante. Non posso aspettarmi niente di diverso, quale situazione invece va decisamente meglio, dove mi sono tenuta più alta e ho sfumato bene l'illuminante nella pelle. Queste palette, volendo, si possono utilizzare anche come palette occhi. Sicuramente riduce il tempo di mese in posa del make-up, però non è quello che preferisco fare io. Infatti ieri che dovevo uscire ho optato per un'altra cosa e non ho utilizzato la jellyfish palette per gli occhi. Oggi però andiamo a provarla. Utilizzo questo bronzer come colore di transizione nella piega. Naturalmente non sono ombretti e non hanno quindi la pigmentazione di un ombretto, direi meno male, perché sennò sarebbero complicati da usare sul viso. Vado ad utilizzare su tutta la palpebra l'illuminante. Devo dire che non è male come shimmer, però a me piace qualcosa di un po' più impattante. Soprattutto con le luci per le foto, ho notato questo faro che ho da questa parte qua. Cosa che non c'è qua. Penso sia dovuto al metodo di applicazione, fan brush, che secondo me tende ad applicare troppo prodotto. Sicuramente io l'ho portato troppo in avanti e l'ho portato ancora più all'interno usando poi la finishing powder, quindi che ha spalmato quello che c'era solo magari in questo punto fino a qua. Sugli occhi sì è carino, ma tra l'altro non ho messo primer, quindi se li vedete già partire è normale il mio occhio. Non fa per me questo tipo di trucco. Come ultima cosa vado ad applicare la finishing powder su contorno occhi. Vi avevo detto che l'avrei fatto dopo le foto, solo per farvi vedere che per me è troppo scura, decisamente troppo scura per me su questa parte del viso. Vedete? Come qua è più luminoso rispetto a questa parte qua. Come polvere sul contorno occhi, ripeto, mi piace molto. Come colore questo non è adatto al mio contorno occhi. Non è neanche così importabile, però preferisco altri colori di polveri di Hourglass sul contorno occhi. Questa palette comunque finora mi ha stupito. Mi ha stupito perché non pensavo mi piacesse così tanto, soprattutto per la questione bronzer, che nelle prime immagini sembrava molto più caldo rispetto agli altri due. Lasciamo stare il fatto che contenga shade già presenti altrove, anche come singoli. Di questa palette vi ricordo che possiedo già Mood Exposure e Dim Light. Questa per me va bene che ci sia, tanto la uso, la uso tanto. Però tutta la storia colori, non pensavo che mi piacesse così tanto. E invece il bronzer si è dimostrato meno caldo, meno aranciato rispetto a cosa pensassi. Quindi per me è perfettamente utilizzabile. E poi di questa palette appunto mi piace che ci sia la Dim Light, che rispetto a quelle della Jellyfish Palette mi sbianca meno. E poi mi piace anche il fatto che abbia tre blush, quindi riesco a fare il discorso di gradient con i blush. Anche con due riesco sì, ma qua ci sono più opzioni. Passiamo ora alla terza palette. Questa dovrebbe di nuovo essere la Snake Palette. nella packaging interno con il disegno del serpente. A me quel packaging non piaceva. Quando ho fatto la prima tranche di ordine volevo solo questa palette più la Jellyfish. Quindi avevo deciso di mettere la palette numero 3 sul sito all'interno del packaging con il leopardo. Sempre paura di farle cadere. Comunque mi sono dimenticata di dirvi che queste sono in metallo, questo ve l'ho detto, ma sono calamitate al contrario di quella precedente. Questa qua che è un packaging in plastica ed ha una chiusura a scatto. Ok? Iniziamo comunque con l'applicazione. Questa palette contiene 5 colorazioni nuove tranne questa polvere qua che è una finishing powder già presente nella gamma se non mi sbaglio anche come singolo permanente. iniziamo dal bronzer questo qua questo è il solar bronze descritto come un bronzo intenso lui è il motivo per cui io volevo questa palette perché dalle immagini che erano uscite all'inizio sembrava piuttosto freddo non è caldissimo ma ha un sottotono più rosso rispetto agli altri due non è comunque neanche freddo ma non è arancione su di me devo dire che si è comportato bene in questi giorni in cui l'ho usato sicuramente oggi lo metterò a fare un disastro di solito va così no speriamo bene a proposito di mettere questo bronzer con questo bronzer per il mio tono di pelle ci andrebbe un pennello un po' fluffy il problema di nuovo qua è la dimensione delle cialde allora io ho visto gente usare questo pennello per prelevare le polveri da questa palette quindi visto che è un pennello piuttosto fluffy morbido che funziona bene nel diffondere le polveri voglio provare lui vediamo se riesco a prelevarlo senza prendere il resto sì è un bronzer intenso perché questa palette in realtà sarebbe per carnagioni da medio a tan non so fin quanto scura ecco non so se per le dip dip possa essere sufficiente questo è il bronzer ne ha prelevato abbastanza se avete visto quanto ce n'era sul pennello però come vedete questo lo sfuma bene scusate ci sono i gatti che stanno facendo dei pazzi vabbè se notate spero riusciate a vederlo il sottotono del bronzer rossiccio si vede anche sulla pelle che però non è un rosso caldo e questo a me piace molto comunque questo pennello va bene con queste cialde non me l'aspettavo non l'avevo ancora usato perché pensavo fosse troppo grande e invece no bello vi posso dire che adesso che li ho provati tutti assieme questi bronzer cioè uno di seguito all'altro forse questo ha il colore che mi piace di più sì è bello intenso sì ci devo fare attenzione devo applicarne poco magari neanche stratificarlo come gli altri però è il colore che mi piace di più mi sono pentita di non aver preso la Tiger uscita l'anno scorso appunto per il colore del bronzer io l'ho visto swatchato a confronto mi spiace non portervelo a fare l'ho visto swatchato a confronto con questo è il bronzer della Tiger sembra essere ancora più freddo di questo che in realtà nella Tiger mi dimenticavo non è un bronzer ma è una finishing powder beh posso dire sarà anche merito del pennello sicuro molto meglio questo pennello con i bronzer rispetto al 37 di Ref perché appunto lo diffonde meglio fin da subito fin dalla da quando il pennello tocca il viso per i blush prendo un altro pennello non questo qua al 37 appunto perché lui è troppo compatto denso preleva parecchio prodotto anche con le polveri più difficili qua i blush sono decisamente più intensi rispetto alle altre palette inizio da questo qua marmorizzato che è il blush Coral Laze ed è un rosa corallo pennello questo è quello di Sonia G speriamo non sia un po' troppo vediamo perché questi blush sono decisamente più pigmentati degli altri vedete però va bene questo pennello va bene non ne ha prelevato troppissimo ne ha troppo poco si è sfumato benissimo adesso vado a prelevare questo qua più aranciato che è il Mystic Flush ed è appunto nella formula Strobe Lightening Blush quindi quella più luminosa e mi tengo per questo motivo nella parte più alta del viso descritto come un rosa però allo medio anche se a me sembra più aranciato che non rosa soprattutto visto dal pan avana se eviti di scartavetrarmi il letto mi fai un favore è più luminoso di questo qua ma neanche in modo eccessivo naturalmente anche per questo blush vale lo stesso discorso di quello nell'altra palette tenersi nelle zone lontane da pori scusate mi sono sbagliata questo qua è Sunbeam ed è descritto come un pesca intenso e adesso sì ok e invece questo Mystic Flush questo invece è descritto come un rosa corallo medio ho pulito il pennello questa volta sul panno in microfibra lo volevo mettere sulle pomade per farvelo vedere bene il colore questo mi inquieta l'ho scaricato un po' sul polso me lo ricordavo più intenso degli altri infatti e avevo ragione però anche lui si sfuma benissimo da questa parte riprende il colore pescato del blush che ho messo più in alto mentre qua riprende il colore un po' più rosato del blush che invece ho messo da questa parte e adesso per me la parte più complicata con questa palette cioè cipria illuminante allora cipria per me è inutilizzabile sul contorno occhi questa qua è la radiant light dell'unica cialda già presente nella gamma di hourglass di questa palette ed è appunto una cipria dal colore beige dorato ed è l'unica che si vede sulla mia pelle come swatch le altre erano praticamente trasparenti forse si vedeva qualcosa di lattiginoso in quelle della jellyfish ma niente di più mentre l'illuminante questo qua per me è ancora più complicato perché è l'infinite strobe light che è un oro caldo lo swatch sopra è appunto uno swatch semplice sotto invece lo sfumato vedete com'è scuro da questa parte qua lo metto in modo sfumato e penso che sia il modo principale se userò e in cui userò questo illuminante perché è tanto tanto scuro quindi ho bisogno di sfumarlo bene bene nella pelle scuro è scuro sì però non è così inutilizzabile cioè si amalgama bene nel blush e non fa un effetto troppo strano sicuramente ho illuminanti che preferisco quelli delle altre due palette per me vanno meglio e invece da questa parte lo utilizziamo di nuovo con il fan brush stavolta cerco di tenermi più alta se no divento di nuovo un faro e qua che è più scuro si vede molto molto di più si da un po' di cast ma non è così importabile preferisco da questa parte adesso vado invece a mettere la finishing powder che è la radiant light questa volta però mi mantengo solamente dove ho messo blush bronzer illuminante non vado in giro non la metto qua non la metto qua sotto al centro del viso sulla fronte solo dove ho messo le altre polveri di questa palette perché se no è troppo scura per me in questo caso funziona bene nell'amalgama delle polveri sì soprattutto se si è esagerato con l'applicazione cosa che può scusate tranquillamente succedere su una pelle così chiara riesco a utilizzarla non come utilizzo le altre finishing powder sul contornocchi ve l'ho detto no non ci provo proprio neanche rende il tutto più sfumato più omogeneo qua gli stacchinetti soprattutto su una pelle chiara come la mia sono dietro l'angolo questa polvere aiuta se ci sono vi dico io ho visto il primo video uscito su queste palette che era di Morgan Turner e lei all'inizio con la snake palette ci è andata molto tranquilla e ha fatto un po' di paciocco e ha sistemato poi il tutto con questa finishing powder è vero che però lei è più scura di me quindi su di lei funziona ancora meglio questo colore di finishing io ci devo stare un pochino più attenta anche in questo caso vado ad utilizzare la palette sugli occhi uso il bronzer di nuovo come colore di transizione questo tono di bronzer soprattutto sugli occhi mi piace di più quello della leopard palette tira fuori troppo il giallo almeno sugli occhi sul viso meno ma sugli occhi tira fuori troppo il giallo questo rimane più marroncino e con il dito vado a mettere l'illuminante su tutta la palpebra che è di nuovo un dorato ma questa volta più scuro preferisco l'altro di illuminante sull'occhio a parte il colore il colore non è male però come come finish mi sembra più luminoso non sono una grande fan di queste polveri utilizzate sull'occhio ma sicuramente in velocità può essere d'aiuto ho completato il tutto mettendo semplicemente un po' di mascara un po' di cipria setting powder al centro del viso anche perché mi stavo lucidando parecchio adesso comunque vi lascio alle comparazioni con queste palette tra di loro con quella che già possiedo e anche con il bronzer singolo che possiedo di Hourglass e queste sono le tre palette a confronto jellyfish quella che dovrebbe essere la leopard e la snake jellyfish leopard e snake palette e questi sono gli swatches delle due palette la jellyfish che finisce qua con questa cipria quasi invisibile come l'altra mentre questa è la leopard leggermente più scura più giallina soprattutto il bronzer più caldo rispetto a quello della jellyfish i blush devo dire che sono abbastanza simili non guardate troppo gli swatches perché sul viso poi in realtà sono abbastanza simili adesso vi metto queste due a confronto cioè la jellyfish e la leopard con la sculpture questa è la sculpture leopard e jellyfish sembrano abbastanza simili anche questo blush della sculpture è nella formula strobe lightning questa palette ha un bel mix di formula l'unica cialda che non mi fa impazzire è l'illuminante poi contiene la diffuse light presente anche nella jellyfish e la dim light presente anche nella leopard questo invece è mood exposure in tutte e due è marmonizzato in maniera diversa questo determina anche una differenza di colore poi swatchato su questo braccio jellyfish è sopra la leopard su quest'altro braccio la sculpture vedete come la sculpture è più simile come colori alla leopard questo invece è il confronto delle tre palette uscite per questa holiday collection su questo braccio jellyfish e leopard qua invece c'è la snake palette che è decisamente più intensa le polveri di hourglass swatchano malissimo però con questa palette ho dovuto fare meno strati per renderli così visibili passiamo adesso però alla comparazione di tutte le cialde cioè bronzer illuminanti blush iniziamo con i bronzer ci aggiungo lui questo è il bronzer nella colorazione nude bronze light che sul sito di hourglass è dato come colorazione neutra adatto a pelli chiare questo è il bronzer singolo nude bronze light questo è quello della sculpture questo invece è il bronzer presente nella jellyfish quello della leopard e quello della snake palette questi ultimi tre sono quelli delle tre palette appena uscite e si vede che cambia il grado di intensità chiare medie scure questo è più neutro di quello della leopard questo è un sottotono rossiccio che però non rimane caldo molto meno giallo aranciato di questo qua della leopard questo della sculpture sembra un po' una via di mezzo tra questi tre bronzer perché anche lui ha un certo tono rossiccio manca un po' caldo questi sono invece tutti gli illuminanti di hourglass che possiedo i primi tre sono quelli della nuova collezione jellyfish palette leopard palette e snake palette qui il gradient è evidente quello della jellyfish più rosato quello della leopard più scuro e più dorato questo è decisamente così un bronzo questo è quello della sculpture che ha più un sottotono pesca ecco se devo trovare dei glitterini li trovo qua in questo qua che tra l'altro ha una base neanche così tanto luminosa cioè sembra quasi una polvere basta più questi glitterini sparsi motivo per cui io non ho mai apprezzato gli illuminanti di hourglass devo dire che questi mi piacciono molto di più sono molto sottili io non ce li vedo questi brillantini però bisogna capire cosa si intenda per brillantini non vedo quello che è presente in questo qua mettiamola così ed infine i blush questi due sono quelli della jellyfish palette questi tre della leopard palette questi tre quelli della snake e questi due della sculpture allora qua la variazione di intensità tra le tre palette si vede quelli della jellyfish sono più rosa rispetto a quelli della leopard questo sembra molto acceso però molto più rosa rispetto a quelli della leopard che sembrano più carollosi corollosi anche quelli della snake con un tocco di pesca arancio questo blush nella formula strobe blush è più luminoso di quelli presenti nella leopard palette che è questo qua e quello presente nella sculpture palette anche questa palette contiene uno strobe lightning blush che è questo qua più rosa corallo questo invece è il nude exposure presente sia nella sculpture palette che nella leopard questo qua come vedete questi due sono totalmente totalmente diversi questo credo che sia dovuto alla diversa marmorizzazione delle due polveri qua infatti c'è la parte più scura qua c'è la parte più chiara e più presente ed ecco qua questo è il blush presente nella leopard molto molto più chiaro rispetto a quello presente nella sculpture sembrano proprio due blush diversi però vi ripeto secondo me è dovuto al fatto che sono diverse le cialde non i colori visto che sono marmorizzate è possibile che ogni cialda sia a sé quindi da questo punto di vista non ho cialde uguali prima che si scarichi totalmente la batteria conclusioni sono contenta di aver preso queste palette assolutamente sì io adoro le polveri di hourglass le uso ormai da due anni il mio primo prodotto di hourglass è stato lei che tra l'altro sul sito di hourglass quello ufficiale si trova ancora costa anche meno delle palette uscite adesso adoro le polveri di hourglass perché sono polveri sottili cotte traslucide danno un velo di colore danno questo effetto soft focus radioso bellissime naturalmente io le uso come finishing io adoro le finishing powder non le uso come setting powder non ho il tipo di pelle adatta per fare ciò chi può usarle chi ha una pelle secca matura forse normale ecco non chi cerca un effetto mattificato perché non tengono assolutamente la lucidità dopodiché sono polveri che mimano l'effetto di vari tipi di luce contengono infatti una tecnologia fotoluminescente con cui la luce sembra arrivare da dentro questa espressione io la trovo sempre orribile però utilizzata anche sul sito di hourglass anche se in inglese devo dire che è meno brutta io sono contenta di averle prese non avessi avuto il canale e vi assicuro che non è una scusa avrei fatto una scelta più mirata mi sarei guardata decine di video con decine di persone con sottotoni di pelle toni di pelle diversi per vedere come performavano per fare la scelta che fosse quella più adatta me ed è quello che vi consiglio di fare se voleste mai approcciarvi a una di queste palette chi può trarne vantaggio ovviamente nessuna di queste palette è necessaria niente è necessario in questo campo spero che sia sottinteso io lo do per sottinteso ma evidentemente molte volte non è così chi potrebbe beneficiarne di più chi non ha mai provato le polveri di hourglass e vuole provarle perché per quanto queste costino costano comunque meno dei formati standard adesso io non mi ricordo ve lo metterò scritto sovraimpressione quanto ci sia di prodotto qua dentro ma una cialda singola di queste dimensioni costa 55 euro questa ad oggi ne costa 96 sul sito di hourglass e mi pare anche su call beauty esistono delle taglie mini non per tutte le colorazioni infatti io il bronzer ce l'ho in taglia normale solamente perché non c'era in taglia mini di quel colore però questo cosino costa mi pare dai 30 ai 35 euro ed è mi pare nella stessa quantità di una cialda presente all'interno della palette naturalmente chi non ha mai provato le polveri di hourglass può trarne un vantaggio chi invece ha tante palette di hourglass potrebbe trovare la cosa ripetitiva le finishing powder che poi funzionano per il nostro tono di pelle sono quelle tant'è che la mia preferenza al momento va a questa palette che mi ha totalmente sorpreso perché non me l'aspettavo ha il bronzer più caldo delle tre palette e io preferisco i bronzer più freddi o più neutri però ha la finishing powder che io preferisco preferisco per tutto il viso non per il contorno occhi lì preferisco usare la diffused light che è quella più giallina motivo per cui io adoro questa palette perché le ha tutte e due ha il bronzer due blush l'illuminante che per quanto non mi piaccia perché questo illuminante non mi piace se devo trovare una polvere che mi piace meno in hourglass è l'illuminante anche se devo dire che nella jellyfish e nella leopard palette l'illuminante mi piace parecchio per quello che mi riguarda non texturizza la pelle nel senso è sempre un illuminante quando l'ho messo mi è capitato di metterlo dove ho i pori li enfatizzava però se ho l'accortezza come sempre di non metterlo sul pori secondo me non enfatizza perché è un illuminante sottile con una base colore leggera molto leggera tra l'altro le cialde di hourglass sembrano infinite per quanto io l'abbia usata sembra perfetta l'ho usata tantissimo soprattutto perché io quest'anno ho scoperto le palette viso prima non ero così entusiasta preferivo le polveri singole adesso ho capito la bellezza a parte che facilitano e velocizzano il tutto e soprattutto le palette di hourglass perché a differenza di altre palette in giro queste contengono tutto almeno molte quindi si ha la finishing powder il bronzer blush più di uno l'illuminante e soprattutto io cosa ho scoperto quest'anno è che mi piace avere più blush con cui lavorare anche in una sola volta mi sta piacendo molto questa cosa del gradient con il blush cioè passare da un colore ed arrivare a un altro man mano che ci si avvicina verso il naso le palette di hourglass mi permettono tutto ciò mi permettono di avere tutte le polveri che mi servono ma anche di avere il gradient infatti molto soddisfatta delle altre due palette cioè la snake e la leopard che contengono entrambi tre blush anche se uno è un po' luminoso ma non importa io lo tengo sui punti alti del viso ed è tutto a posto spero di avervi detto tutto ah no un'ultima cosa la più importante se volete prendere una palette di hourglass mi raccomando l'ho già detto nell'introduzione lo ridico non su sephora lasciate perdere sephora se non ci sono colori che vi ispirano in queste palette aspettate un altro anno oppure andate a vedere su hourglass quelle che ci sono oltre a quest'edizione limitata che comunque non l'ho detto ma è la holiday collection a lot il difetto che trovo in queste palette è che i blush soprattutto in quelle per carnagioni più chiare siano molto molto simili anche all'interno della stessa palette e molto molto simili anche a blush già esistenti cioè in hourglass non c'è una così grossa differenza nella colorazione di blush che poi si ha effettivamente sul viso l'unica che si differenziano un minimo anche tanto sono queste più scure e in queste ci metto anche quella uscita l'anno scorso la tiger che aveva dei colori di blush più nude questa ce li ha più colorallo più intensi palette che non so quanto possa andar bene per una carnagione molto molto scura i blush secondo me potrebbero andar bene l'illuminante anche l'unico dubbio è sul bronzer perché se riesco a usarlo io è vero devo usare certi accorgimenti sulle altre palette non tanto ma secondo me con questa palette se avete un tono di pelle chiaro dovete usare assolutamente i pennelli giusti perché se no gli si rischia un po' di fare il paciocco cosa non così immediata vista la dimensione delle cialde perché si potrebbe pensare sì di usare il blush brush di Real Technique che piace a molti però purtroppo quel pennello è troppo grande preleva tutto quello che c'è attorno questa utilizzabile da pelli chiare sì ma con i giusti strumenti le altre due naturalmente la jellyfish più indicata per pelli da fair a chiare la leopard più indicata per pelli chiare medie però come avete visto si possono usare tutte io con questo ho finito ho concluso spero di avervi detto tutto quello che volevo dire di non essermi dimenticata niente scusate anche per il pippone che vi ho fatto all'inizio ma soprattutto in questo video credo che fosse necessario io vi saluto vi ringrazio della compagnia e ci vediamo nel prossimo video ciao